Ci sono delle interlocuzioni in corso, in quel caso Mattarella ha fatto dei rilievi molto specifici, noi siamo sempre stati nella posizione di intervenire subito con dei decreti per dare seguito proprio ai rilievi di Mattarella, dopodiché su tutto il resto c'è una discussione in atto tra i gruppi politici, la cosa importante è non creare una discussione che poi possa comportare questioni di pull factor in questa fase dove noi abbiamo delle emergenze sostanziali legate al coronavirus.